L'inquinamento derivante dalla combustione di biomasse legnose per scopi di riscaldamento civile nel bacino padano ha una importanza molto rilevante, molto impattante per la salute dei suoi cittadini e per l'ambiente stesso. Quindi il progetto Life Prepare si propone di agire su questo importante asse tematico, appunto le biomasse legnose. Quello che è stato fatto in questi primi due anni di progetto ha visto innanzitutto dei corsi di formazione che sono partiti soprattutto nei confronti dei manutentori e degli installatori degli impianti a biomasse legnose, perché sono loro che hanno e devono anche potenziare quelle competenze quando entrano maggiormente rivolte verso l'ambiente, rivolte verso l'ottimizzazione delle performance energetiche di questi impianti, tutte le volte che entrano nelle case dei cittadini per effettuare un'installazione e una manutenzione di questi impianti a biomasse legnose. E poi la comunicazione, un'azione di comunicazione molto importante su tutto il bacino padano che è intitolata brucia bene la legna, non bruciarti la salute. Questo perché bruciare legna spesso non lo si sa, ma fa molto male alla salute se non è fatta correttamente secondo quelle che sono le norme vigenti e quelle che sono anche le buone pratiche che in qualche modo vengono indicate in questo campo. Un'azione di comunicazione molto importante perché spesso va anche a cercare di smontare tanti luoghi comuni dietro la combustione della legna. Siccome l'uomo brucia la legna per riscaldarsi da tanti secoli, da quando è di fatto sulla terra, spesso pensa che non faccia male o che non abbia conseguenze sulla salute. Quindi anche smontare questi luoghi comuni è importante per la nostra campagna di comunicazione, per tutelare la salute dei cittadini e per tutelare l'ambiente del nostro bacino padano e la qualità dell'aria.